Questo è un video per persone coraggiose, quelle che sono capaci di andare a vedere le cose più a fondo possibile. Allora, stiamo toccando il tabù dei tabù. La società umana è da sempre, dove c'è il potere dominio, il potere delle eliti sui popoli, c'è sempre stato questa separazione, non solo in Occidente, anche in Oriente. Le eliti infatti hanno grande interesse a mantenere questa separazione per mantenere il potere politico, religioso, economico e militare. E perché? Perché il sesso è il nostro impulso più forte. E il trucco consiste nel mettere il sesso contro lo spirito. Cioè, se sei una persona erotica, allora stai commettendo peccato. C'è qualcosa che non va. Trovate questo tema ampliamente sviluppato nel libro di Tolstoi, Padre Sergei. Non lo pronuncio perfettamente perché non si sa come si pronuncia. Si spiega il prof. Sergei, Sergei, pronunciatelo come volete. Io non sono russo. Quindi, Padre Sergei, che poi in italiano sarebbe Padre Sergio, e lì ci sono dei passaggi straordinari per vedere quanto un uomo santo viene tormentato nella coscienza per queste problematiche che dovrebbero essere risolte in un attimo. Nel senso che, purtroppo, questa separazione tra il sesso e il piacere fa parte del secondo chakra, del piacere ma anche della creatività. Allora, togli, blocchi il secondo chakra, stai bloccando la creatività. E in questo modo stai bloccando anche la creatività superiore. Stai bloccando la creatività che ti permetterebbe di superare queste angustie del pensiero umano. Allora, se blocchiamo il sesso, blocchiamo l'erotismo, non è che se è in un impulso più forte non si ferma di sicuro. Semplicemente si perverte. E così viene meno, in maniera più grave o meno grave, la capacità di amare. Se perdiamo la capacità di amare, quindi non riusciamo ad avere una relazione erotica vera con un partner, ma anche con tutte le cose poi diventa, non ci realizziamo, vivremo nella schiavitù. Siamo predisposti alla sottomissione. Invece dove spiritualità e sessualità vanno insieme in modo sereno, senza ostacoli, naturalmente gli impulsi sessuali vanno guidati da una parte più adulta, da una parte più sessualità, anche componenti corporee e fisiche, vanno via via trasformate in modo da essere al servizio di una vera sessualità sana, dove i piaceri umani del corpo non sono visti come peccati, ma sono visti come cose che morigeratamente, in modo corretto, vanno utilizzate per stare sempre meglio. E quindi anche, se andiamo a vedere Santa Teresa d'Avila, nell'attitato del Bernini, vedremo che lei è una mistica che ha una sorta di orgasmo, e l'orgasmo, sappiamo bene da Reich, che è un reset della nostra psiche, è una forma di rilassamento profondissimo, che consente di superare le forme nevrotiche della schiavitù, di coloro che hanno bloccato in qualche modo questa forma di vita, che è l'eros, l'eros in fondo è la nostra vitalità, se blocchiamo la vitalità ci spegniamo, quindi creiamo un mondo di persone spente, il che non vuol dire che non siano aggressive, per carità, sto dicendo spente dal punto di vista spirituale, spente dal punto di vista della capacità di amare, spente dal punto di vista dell'eros.